Stefano Boeri, Assessore Cultura e Moda e Design del Comune di Milano. Come è nata l'idea di creare la Vogue Fashion Night Out, la notte bianca dedicata allo shopping? È nata perché, come accade per il design con il Salone del Mobile, questa è una città che dà il meglio quando riesce ad accendere tutti gli spazi diffusi nella città che accompagnano un certo linguaggio della cultura e del commercio. Lo si fa col design e è bene farlo con la moda e quindi l'esperimento iniziato con Franca Sozzani è quello di dire si prova ad accendere un pezzo di città chiedendo a tutti gli esercenti che hanno un diretto contatto col mondo della moda quindi non solo diciamo gli showroom, le sedi delle grandi case ma anche i negozi che hanno a che vedere con l'arte, la cultura e la moda in senso lato. Attorno a Quadrilatero, attorno alla zona di Brera, Corso Como, già negli ultimi 4 anni c'è stata una grande festa popolare e questa cosa l'anno prossimo sarà ancora più estesa. Siamo con Franca Sozzani, direttore di Vogue Italia e direttore ritoriale di Condenance Italia. Buongiorno, quali sono le novità della prossima edizione di Vogue Fashion Night Out? La novità è che in realtà sono tre piazze quest'anno, anziché due, anziché Milano e Roma e già questo è un segno perché rispetto, sono 19 Vogue in tutto il mondo, 19 le città in cui si fanno, 19 i paesi in cui si fanno solo l'Italia ha tre città, quindi mi sembra un bel successo. Poi le novità, siamo cercato di crearne tante, però ci sono delle zone che ovviamente si stanno muovendo molto, come Brera è una zona che si muove molto e che crea da sola degli eventi. Poi ci sono i negozi, ci saranno tante cose. Adesso numerarle sono 550 negozi, quindi sarebbero 550 idee. Giorno per giorno lo aggiorniamo in effetti con gli eventi attraverso un sito che creiamo apposta per Vogue Fashion Night Out e che è già pronto adesso e da questo momento sarà attivo e quindi caricheremo quotidianamente tutto quello che succederà. Grazie.